Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, acode a tratti per il traffico intenso tra Monte San Savino e Firenze Sud. Sempre per il traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Nord e Aglio, sempre in direzione Bologna. Domani notte, in orario 21.06, sarà chiuso lo svincolo di Arezzo in entrata in direzione Roma e in uscita provenendo da Bologna. Sempre domani notte, in orario 21.06, sulla 1 Panoramica, chiuso il tratto tra Rioveggio e Pian del Voglio in direzione Roma. Contestualmente chiuso all'entrata di Rioveggio in direzione Roma. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!